Ti do il benvenuto a Flamenco Chiavi in Mano. Oggi parliamo di Rosalia e il flamenco. Rosalia è un fenomeno incredibile che ha assunto via via negli anni una dimensione assolutamente internazionale. Intanto due parole su chi è Rosalia, giusto per le persone che non la conoscono. Rosalia è una giovane cantante catalana che negli ultimi anni è diventata famosissima prima a livello nazionale spagnolo e poi a livello internazionale come un fenomeno musicale assoluto e che è stata al centro di tantissime polemiche per aver utilizzato tanto il flamenco in un ambito musicale completamente diverso da quello tradizionale. E' un caso grossissimo di utilizzo del flamenco in una fusion con altri generi musicali completamente diversi, soprattutto la musica elettronica, la trap, R&B, il pop, di tutto. Ovviamente il mondo del flamenco che è super tradizionalista ha gridato allo scandalo e lo ha fatto anche per una ragione secondo me molto pratica perché ad un certo punto ci si è trovati di fronte a qualcosa che poteva in qualche modo fare concorrenza al flamenco. Cioè, magari in un festival, magari in una presentazione televisiva soprattutto, magari in una sfilata, invece di animare la situazione con qualche cantaor flamenco, viene chiamata Rosalia, che richiama sicuramente maggiormente l'attenzione di un pubblico più largo. Quello del flamenco è anche in Spagna un pubblico molto di nicchia, un pubblico composto di persone super interessate, magari super competenti, ma che non sono la totalità delle persone. Ecco, invece, Rosalia è una star della televisione, una star della radio, una star di tutto l'universo musicale spagnolo e non solo spagnolo, per cui sicuramente in una situazione pubblica è di maggiore richiamo rispetto a un cantaor flamenco per quanto magari meravigliosamente bravo. Ma torniamo a Rosalia. Fin da piccola le piaceva moltissimo cantare e ballare, però non voleva cantare qualcosa prodotto da qualcun altro, ma desiderava veramente comporre, ballare e cantare qualcosa di suo, qualcosa di personale. Ad un certo punto, all'età di 13 anni, racconta in varie interviste, ha conosciuto il flamenco ed è stato proprio un colpo di fulmine. Lei dice, c'è stato un prima e un dopo rispetto al suo incontro con il flamenco. Non ci deve stupire il fatto che una ragazza catalana di 13 anni ad un certo punto abbia incontrato il flamenco. Sappiamo che la zona di Barcellona è popolata di tantissime famiglie che in realtà vengono dall'Andalusia, quindi è normale che i suoi amichetti, magari della scuola, ascoltassero Camaron, ascoltassero flamenco. Quindi ad un certo punto lei si trovò comunque immersa in questa cultura musicale. Quando pensiamo ad un luogo in cui c'è una grandissima affezione al flamenco, probabilmente subito dopo l'Andalusia, in classifica arriva proprio la Catalunia. Ci sono tantissime pegnas flamenche, ci sono tantissimi musicisti anche molto bravi. Pensiamo a Miguel Poveda, pensiamo a Maite Martin, pensiamo a Ducende o a chitarristi catalani molto importanti come Cicuelo, José Luis Montón, Juan Ramoncano. La stessa Carmela Maia era di Barcellona, quindi non è che stiamo parlando di un posto dove il flamenco non esiste o non è mai esistito. Ma torniamo a Rosalia. Non possedendo ancora tanti strumenti per avere successo nel mondo dello spettacolo e forse non avendo ancora le idee molto chiare, ad un certo punto, addirittura nel 2008, Rosalia si presenta a Tussique Valles, un talent famosissimo nella televisione spagnola. Non ebbe assolutamente successo. Aveva solamente 15 anni all'epoca, ma venne bocciata a questo esame. Già allora, di fronte al fallimento di questa esperienza, Rosalia mostra un carattere incredibile da parte di una ragazza così giovane, dicendo ma insomma ho cercato di interpretare, cantare, ballare, fare tutto, non posso fare tutto. L'unica cosa che mi avete chiesto è che avessi forza? Bene, qui vedete qualcuno che ha forza. Nonostante l'esperienza negativa, Rosalia non si diede per vinta e continuò a studiare, anzi si impegnò ancora di più. Ad un certo punto si accorge che la musica acquisisce una importanza talmente grande nella sua vita che diventa assolutamente necessario per lei seguire una formazione di tipo professionale. Perciò si iscrive alla Scuola Superiore di Musica di Catalunia a Barcellona, prendendo la specializzazione sulle musiche tradizionali, in particolare sul flamenco. Utilizzò, come molti ragazzi della sua generazione, YouTube soprattutto come strumento per farsi conoscere, poi Spotify, in modo da espandere la sua presenza anche sui social e da cominciare a collezionare persone che la seguivano. La svolta fu nel 2017, quando debutta con il suo primo album sul mercato, dal titolo Los Angeles, disco nel quale Rosalia canta tantissimi temi flamenchi tradizionali. A modo suo, ovviamente, senza pretendere di cantare flamenco, però fa riferimento assolutamente a melodie totalmente tradizionali del flamenco. Già con questo disco, Rosalia acquisisce fama e il suo pubblico diventa più largo, non solo quello locale, diciamo catalano, ma diventa nazionale. La svolta grossa avviene due anni dopo, nel 2019, con l'uscita del disco El Malquerer, che in realtà è stata la sua tesi di diploma della scuola. Si vede che è un disco molto pensato, nel quale Rosalia fa riferimento ad una opera letteraria di autore sconosciuto del secolo XIII dal titolo Flamenca. Un romanzo che parla di una donna data in sposa ad un uomo che poi diventa pazzo di gelosia, la rinchiude, insomma la storia è molto pesante. E Rosalia compone tutta una serie di brani proprio finalizzati a raccontare la storia di questa donna. Fra l'altro questo libro, che era considerato in realtà soltanto da studiosi, filologi, eccetera, ad un certo punto ha un successo incredibile e viene acquistato anche da ragazzi e persone appunto totalmente estranee a questo mondo. Quindi, in qualche modo, Rosalia ha stimolato l'attenzione delle persone giovani nei confronti di qualcosa di culturalmente molto di nicchia. Lo stesso accade per il flamenco. Nel Malquerer, Rosalia utilizza tutti gli elementi del flamenco mischiandoli con la musica pop, con la trap, con suoni di fusione tra vari elementi musicali, dando a tutto un'atmosfera quasi religiosa che è stata anche ovviamente criticata. Anche le immagini di accompagnamento del disco la mostrano quasi come una santa. In questo disco cavalca anche un po' l'onda del rivendicare il potere delle donne. Parlando di questa donna, dapprima innamorata e poi finisce in una baratro di un amore malato che la rende prigioniera, eccetera. Rosalia è stata vista tanto anche come una paladina del femminismo spagnolo. I brani di questo disco sono costruiti con grandissima cura musicale. E' piuttosto interessante ascoltarli anche con attenzione, tutti gli elementi del flamenco, tutti gli elementi della trap. Questo disco a un certo punto ha un successo pazzesco internazionale. I suoi fans diventano sempre più numerosi ogni giorno e praticamente non passa giorno che Rosalia non sia menzionata in qualche periodico, rivista, eccetera, o che non passi in televisione, in qualche intervista. In questo disco, il brano Malamente, è stato un tormentone estivo dell'estate del 2019 e ha avuto un successo ancora più grosso rispetto a quello del disco intero. Ha funzionato da traino per il disco intero. Da lì la sua strada è stata veramente in una esplosione internazionale, collaborazioni con artisti di tutti i generi musicali, premi, riconoscimenti, una vendita di dischi pazzesca. Rosalie è stata guardata con sospetto dai flamenchi, anche perché essendo catalana è stata sospettata di fare l'occhiolino all'indipendentismo catalano. E dai catalani è stata criticata per aver cantato praticamente sempre in castigliano, pur essendo catalana. Ad un certo punto anche ha cominciato a cantare in catalano, probabilmente per far vedere che può fare in realtà quello che le pare, e credo che questo sia il fondamento totale della sua poetica. Negli ultimi anni si sta occupando di musica più internazionale, ha un occhio molto attento alla musica latinoamericana, tant'è che si è trasferita proprio in America, in diversi paesi dell'America centrale, negli Stati Uniti, insomma è molto radicata lì adesso. E anche la sua musica ne risente tantissimo, quindi si è un po' staccata dal flamenco, benché abbia nel frattempo anche sperimentato brani flamenchi molto importanti, molto tradizionali, come per esempio una malaghenia. In un mondo in cui tutto è mescolato, tutto viene contaminato da tutto il resto, sarebbe abbastanza assurdo continuare a portare avanti la bandiera del flamenco puro, come se non si dovesse mai evolvere, e non ci fosse il diritto da parte di nessuno di fare del flamenco qualcos'altro. Io credo che ogni forma d'arte alla fine sia di dominio pubblico e sia anche giusto che ognuno ne faccia le sue sperimentazioni. Poi, mi piace, non mi piace, è fattore personale. Sinceramente una musica meticcia come il flamenco, che è nata meticcia e continua ad essere meticcia, perché ha preso e continua a prendere ispirazioni da veramente tutti gli altri generi musicali. Non capisco perché dovrebbe rimanere assolutamente fedele a se stesso. Credo che la cosa giusta sia che un artista che ha voglia di utilizzare il flamenco e di sperimentare un po' con il flamenco lo faccia. Quello che deve essere molto chiaro è che ciò che quell'artista fa non è flamenco, ma è ispirato al flamenco, dedicato al flamenco, è un omaggio al flamenco, senza essere flamenco. Questo è il punto da chiarire. Che non si faccia confusione. Che Rosalia conosca il flamenco è molto chiaro quando canta. Ogni volta che canta qualcosa che assomiglia un po' di più al flamenco e che non è proprio completamente trap o qualcos'altro, si capisce che conosce il flamenco, si capisce che sa come entrare nel compas, che conosce proprio la tradizione del flamenco. ma è normale che la conosca perché comunque l'ha studiata in un conservatorio, quindi sicuramente ha ricevuto una formazione approfondita e di buona qualità. Il suo amore verso il flamenco è sicuramente un amore vero e di lunga data. Si capisce che è una persona che ha studiato tanto e che molto probabilmente all'inizio aveva anche l'intenzione di provare a buttarsi nel mondo del cante flamenco come canta ora, accorgendosi piuttosto presto che la sua qualità di voce non era adatta a cantare flamenco e quindi però la sua passione è rimasta, tant'è che ha evoluto il flamenco nella direzione che più le piaceva, che più le interessava, facendone qualcosa di molto mescolato, di molto misto e ad un certo punto probabilmente non gliene è importato più nulla dell'opinione degli altri. In realtà questa è anche una cosa molto flamenca, a dire il vero. Faccio quello che sento, faccio quello che mi piace, faccio quello che mi dà piacere e chi se ne frega se piacerà o non piacerà a qualcuno. Credo che Rosalia abbia fatto questo e forse probabilmente questa è anche una delle ragioni del suo grandissimo successo. Per raggiungere i suoi risultati ovviamente Rosalia si è impegnata a 360 gradi in tutte le direzioni mescolando gusti particolari su arti visuali, vestuario, trucco, pettinature, persino la cura delle unghie che per lei è un'assoluta forma d'arte. Tutto questo ha molto coinvolto i giovani e Rosalia ha saputo sapientemente anche vendere il proprio personaggio. Evidentemente si tratta di una persona dotata di un'ottima intelligenza altrimenti non avrebbe fatto quello che è riuscita a fare. Si tratta sicuramente di una ragazza che fa quello che sente. Da questo punto di vista è molto simile al flamenco ovviamente. non si fa troppe domande sul proprio futuro, su una programmazione, fa ogni giorno quello che le viene come musicista. Sono Sabina Todaro, mi occupo di flamenco e di danza e musiche del mondo arabo dal 1985. Dal 1990 insegno principalmente baile flamenco a Milano, alla scuola di danza e il mosaico danza. Considero sempre tutti i fenomeni musicali legati al flamenco per vie traverse, sia che mi piacciono personalmente, sia che non mi piacciono, perché ritengo sempre interessante verificare, investigare, capire che cosa succede intorno a questo mondo musicale e coreutico che mi piace così tanto. Il fenomeno Rosalia non può passare inosservato presso chi si occupa di flamenco, perché è davvero stata una bomba atomica, esplosa quasi in sordina all'inizio e poi sempre più potentemente nel corso del tempo. Ormai si è assestata in un olimpo di musicisti, diciamo, internazionali e la sua radice piantata nel flamenco come gusto ed estetica musicale originaria ora si è completamente mescolato con altri generi musicali, in una fusion tutta sua con uno stile personale. Allora, cosa ha fatto Rosalia di buono, secondo me? E che cosa ha fatto di cattivo? Posto che io sono molto appassionata di cante flamenco, moltissimo, ma non sono una persona intollerante, anzi, al contrario, penso che il flamenco è una musica meticcia di sua origine, di sua natura e che quindi è se stessa appropriata di altri elementi provenienti da altre culture, provenienti da altre tradizioni. Quindi non mi disturba che qualcuno prenda il flamenco e lo mescoli con qualcos'altro. Evidentemente se ascolto Rosalia pensando che mi canti il tango guajira esattamente come lo cantava Juan Vallejo o Naranchito de Triana, che lo rese famoso, mi sto sbagliando, troverò qualcosa di strano, ne fa effettivamente una sua interpretazione e non credo che in nessun momento abbia cantato flamenco nelle sue composizioni con l'idea di essere una cantaora flamenca. Quello che è invece successo è che moltissimi giovani, proprio ascoltando le sue canzoni e appassionandosi alle sue canzoni magari più di moda, si siano incuriositi per il suo personaggio. Ed esattamente come raccontavo prima è accaduto per quello che riguarda il romanzo flamenca, che è passato dall'essere un romanzo conosciuto da quattro studiosi, mi spiace di sminuirlo però è effettivamente così, ad essere letto da persone qualunque, in particolare soprattutto dai giovani. Anche il flamenco ha subito un po' lo stesso tipo di evoluzione. Avendo ascoltato a Rosalia, molti giovani si sono incuriositi nei confronti del flamenco e non soltanto in Spagna, moltissimi anche in altri paesi. Ricordiamoci che sono oltre 400 milioni le persone nel mondo che parlano spagnolo come prima lingua. Non è poco, evidentemente Rosalia può molto affascinare persone appunto di madrelingua spagnola, che non necessariamente sono spagnole. Moltissime persone quindi anche in America Latina si sono appassionate al flamenco, si sono incuriosite al flamenco grazie all'ascolto dei brani di Rosalia. E hanno cominciato ad ascoltare Camarón. O altri cantanti super importanti della storia del flamenco, anche cantanti antichi fra l'altro. Questa è sicuramente stata una grandissima risorsa per il flamenco oggi, perché come già ti ho raccontato in altri podcast, nella stessa Spagna moltissime sono le persone che considerano il flamenco una musica antica, una musica che piaceva ai miei nonni. E invece grazie a Rosalia molti giovani si sono riaffacciati all'ascolto di questo meraviglioso genere musicale. Quello che è invece l'aspetto negativo, secondo me, è che un po' sta confondendo le idee alle persone. Chi non conosce bene il flamenco e ascolta l'interpretazione che ne fa Rosalia, lo annovera tra gli stili possibili del flamenco tradizionale, confondendo le carte. Non credo che Rosalia sia minimamente cosciente di aver fatto un'operazione di questo genere, anzi probabilmente non gliene importa nulla eventualmente di confondere un po' le idee alle persone. Lei non ha sicuramente la visione del flamenco dal punto di vista del flamenco. Ha la visione del flamenco come di uno dei tantissimi generi musicali che le piacciono, che la incuriosiscono, che l'alluntrono nella sua creatività musicale. Quindi, tutto sommato, dal suo punto di vista, non è importante che qualcuno possa confondersi e pensare che quello che fa lei sia il flamenco tradizionale. Veramente credo che sia proprio fuori dal suo pensiero. Però, di fatto, qualcuno viene confuso. Mi è capitato personalmente di sentire diversi dei miei allievi che sono arrivati ai miei corsi di baile flamenco perché fans di Rosalia. Magari io chiedo come mai hai pensato di studiare baile flamenco? E la risposta più volte negli ultimi anni è stata ma guarda, seguo una cantante spagnola sui social e mi piace moltissimo. neanche me la nominano pensando che probabilmente io sono di un'altra generazione e che quindi molto facilmente non la conosco. E lì si sbagliano perché non è una questione di età anagrafica ma è una questione di interesse e curiosità, evidentemente. E comunque, spesso, le persone poi mi dicono Ah, sì, ho sentito già questo tema flamenco lo canta Rosalia, fa così, così, così e me lo ricantano. Ed in effetti si capisce che l'hanno ascoltato tante volte cantato da Rosalia che ne ha una visione sua ma bella anche dal punto di vista musicale, secondo me facendo finta di non conoscere il flamenco direi molto orradevole. Poi se la confronto, appunto, se confronto la famosa letra che dicevo prima che mi sta smartilizzando, cantata da lei o cantata da Naranchito de Triana o dai suoi allievi, e beh, c'è una bella differenza, evidentemente. Però è un brano comunque cantato in scala minore che si presta anche a delle sonorità più internazionali effettivamente non così tanto profondamente ancorate nel flamenco. Tuttavia c'è una differenza tra come lo canta lei e come lo canterebbe un flamenco, no? Perciò che poi una persona che non conosce tanto il flamenco creda che quello sia esattamente il modo giusto di cantarlo mi dispiace un po', però mi fa anche piacere che qualcuno si incuriosisca. Per esempio, appunto, in un genere musicale come il tango guachira che credo che conoscano veramente una percentuale minima delle persone anche appassionate di flamenco. Quindi perché no, tutto sommato? In ogni caso la cosa che mi piace di più assolutamente di questa cantante, a parte la sua voce che trovo molto interessante come timbro e come modalità di uso, è proprio il messaggio che lei manda, che è un messaggio tipico, secondo me, di questa generazione di cantanti nati dopo gli anni 90 o negli anni 90, che è proprio il messaggio chiaro di dire sii te stesso e fai assolutamente ciò che senti di fare, ciò che ti piace, ciò che ti rende felice, ciò che ti interessa e ti coinvolge in quel momento e cerca di essere lì in tempo reale e di fare quello che senti in tempo reale. Bene, questo messaggio è assolutamente il messaggio del flamenco, né più né meno, quindi mi fa solo piacere che le persone ascoltino questo tipo di filosofia attraverso la musica e che ci riflettano e la facciano propria.